Un dialogo con Sant'Agostino, personalità storica che ha lasciato all'Occidente un immenso patrimonio culturale in campo teologico, filosofico, etico, estetico, spirituale e biblico. Si chiama Sono diventato una gigantesca domanda ed è il libro redatto da Monsignor Luigi Manca, docente, tra le altre cose, di patrologia presso la Facoltà Teologica Pugliese, un lavoro in cui prendono vita i testi e i pensieri di Sant'Agostino. Agostino non si può pensare senza l'Europa e l'Europa, l'Occidente, non si può pensare senza Agostino. Agostino pur essendo di pelle scura è un africano, l'Africa del Nordo, è un romano di cultura e ha contribuito con il suo pensiero a mettere le basi di quella che poi sarà la cultura occidentale nel Medioevo e nell'età moderna fino ad oggi. Il mio libro è proprio finalizzato a documentare in uno stile colloquiale questa sua attualità. Una figura, quella di Sant'Agostino, sempre attuale e per diverse ragioni. I filosofi subito ci direbbero che Agostino ha portato nell'Occidente il senso della soggettività, non del soggettivismo ma della soggettività e soprattutto i teologi e i filosofi insieme direbbero della interiorità. Ecco, Agostino in continuità con la filosofia antica, facendo proprio il Vangelo, la fede cristiana, porta queste implicazioni filosofiche nel cristianesimo, ci portano a dare questo nuovo prodotto, chiamiamolo così, cioè della soggettività, della interiorità, che ha dato poi una svolta alla cultura occidentale.